Stanno arrivando, sono tanti, tutti diversi e usano una tecnologia avanzata. Non hai scampo, saranno dappertutto. Molto presto, potresti esserne rapito anche tu. I telefoni Enicul sono già qui. Dual SIM, QWERTY, possibilità di navigare in internet sui tuoi social network preferiti. In più i telefonini Enicul sono Sweet Ears. Caprice, Sherry e Urban possono essere tuoi a partire da 79,90 euro. Che aspetti? Corri a Enicul Sweet Ears. Telefoni dell'altro mondo.